Allora, finalmente oggi riusciamo a spostare, si spera, il relitto della De Linda. Sono passati sette mesi, un'infinità di tempo, è stata dura riuscire a superare una serie di impasse burocratici incredibili. Io ci tengo in particolar modo a ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, le persone che hanno collaborato e gli enti che hanno collaborato per arrivare a questo risultato che è stato davvero lungo, l'amministrazione e soprattutto l'assessore Stecco che si è impegnato, ovviamente tutti gli operatori del mercato e tutti quelli che lavorano all'interno del mercato, oltre agli armatori e ai capitani dei vari pescarecci, perché comunque lavorare in una situazione come questa con il relitto era difficile. Spero che fra un paio di ore il relitto verrà sollevato, mi pare che le procedure stiano andando avanti, siamo molto felici, è stata molto dura, davvero non pensavo, ma alla fine spero che la cosa si risolvi.